Non ci stiamo ad essere trattati come coloro che metterebbero in discussione il futuro dei giovani. Non ci stiamo perché i pensionati sono stati in questi anni l'ultimo ammortizzatore sociale di questo Paese. Non ci stiamo perché il valore intergenerazionale è sempre stato al primo posto per i pensionati. Non ci stiamo perché i pensionati sono stati il valore aggiunto a disposizione della comunità. Non ci stiamo perché questo Paese ha trattato i pensionati come un bancomat da cui prelevare a proprio piacimento non per destinare le risorse alle nuove generazioni come noi vogliamo che questo avvenga ma per destinare quelle risorse che sono state portate via a pensionati semplicemente a debito pubblico che peraltro ha continuato a crescere.